Allora ragazzi su cosa state lavorando? Bene. Allora Nicole tu cosa stai cercando? Il bullismo in Europa. Benissimo. Ragazzi e voi su cosa state lavorando? I numeri utili. Contro il bullismo. I numeri utili da utilizzare se si è vittime? Sì. Bene. Voi ragazzi su cosa state lavorando? Le campagne pubblicitarie. Progresso? Sì, sì. C'è una foto pure in qua. Voi ragazzi su cosa state lavorando? Stiamo cercando vari casi e ci sono state vittime. Articoli di giornale? Vedo la stampa. Morena su cosa stai lavorando? Il bullismo. Cosa stai cercando? La recettuale. Di casi di bullismo dove? In Italia. In Italia. Allora buongiorno a cosa state lavorando ragazzi? Omar. Cosa significa l'amicizia? Come? Cosa significa l'amicizia? Legato al concetto di bullismo e sacrobullismo. Benissimo. Allora chi mi spiega? Dai. Come se mi vuoi? Come se mi vuoi? Come se mi vuoi. Come se. Come se mi vuoi. Come se mi vuoi? Che cosa state facendo? Come se mi vuoi? In Italia. che state facendo salvatore se bullo non sarai più amici tu avrai amici tu avrai se prepotenza non commetterai non sarai quindi state lavorando a slogan si partendo da cosa dai video che abbiamo visto prendi coraggio e al bullo dagli pure un bel viaggio a fargli fare un bel viaggio non diventare cosa state lavorando dei cartelloni sui personaggi i super errori allora buongiorno cosa di che stiamo parlando maria elena allora stiamo lavorando e la professoressa ci sta leggendo alcune descrizioni di alcuni ragazzi che hanno avuto questioni con colpismo quindi casi di studio state svolgendo che state riflettendo su questo sono a sue fatte abituate troppo a internet ma allora ragazzi a cosa state lavorando che che state realizzando uno slogan contro il bullismo anche voi